Ancora repressione, 32 anni dopo piazza Tiananmen. A Hong Kong è stato arrestato un membro del comitato che organizza l'annuale veglia a lume di candela per ricordare le vittime, il numero esatto e ancora oggi sconosciuto, dei fatti di piazza Tiananmen a Pechino del 4-5 giugno 1989, quando i cararmati cinesi soffocarono nel sangue la prima richiesta di democrazia in Cina. Cho Wang Tung, il vicepresidente dell'Alleanza di Hong Kong, a sostegno dei movimenti patriotici democratici della Cina, è stato arrestato dalla polizia all'alba di venerdì. La veglia è stata cancellata dalle autorità per il secondo anno consecutivo, il museo è stato chiuso questa settimana e Victoria Park, il cuore di Hong Kong, è stato blindato con la presenza di 7.000 agenti di polizia, ogni manifestazione vietata. Hong Kong si è risvegliata così, comunque decisa a non dimenticare una strage che in Cina è vietato ricordare. Grazie.